e due dopo aver vagato a lungo per il quartiere addormentato dei prati di castello rasentando ai muri delle caserme fuggendo istintivamente il lume dei lampioni sotto gli alberi dei lunghissimi viali pervenuto alla fine sul lungotevere dei mellini diego bronner montò stanco sul parapetto dell'argine deserto e vi si pose a sedere volto verso il fiume con le gambe penzoloni nel vuoto non un lume acceso nelle case di fronte della passeggiata di ripetta avvolte nell'ombra e stagliate nere nel chiaro lieve ed ampio che di là da esse la città diffondeva nella notte immobili le foglie degli alberi del viale lungo l'argine solo nel gran silenzio sudiva un lontanissimo zirlio di grilli e sotto il cupo borbogliare delle acque nere del fiume in cui con un tremolio continuo serpentino si riflettevano i lumi dell'argine opposto correva per il cielo una trama fitta di infinite nuvolette lievi basse cinere come se fossero chiamate in fretta la di là verso levante a un misterioso convegno e pareva che la luna dall'alto ne passasse in rassegna il bronner stette un pezzo col volto in su a contemplare quella fuga che l'animava con così misteriosa vivacità il silenzio luminoso di quella notte di luna a un tratto o di un rumor di passi sul vicino ponte margherita e si volse a guardare il rumore dei passi cessò forse qualcuno come lui sarà messo a contemplare quelle nuvolette e la luna che le passava in rassegna o il fiume con quei tremoli riflessi dei lumi nell'acqua nera fluente trasse un lungo sospiro e tornò a guardare il cielo un po' infastidito della presenza di quell'ignoto che gli turbava il triste piacere di sentirsi solo ma egli qua era nell'ombra degli alberi pensò che colui dunque non avrebbe potuto scorgerlo e quasi per accertarsene si voltò di nuovo a guardare presto un fanale invasato sul parapetto del ponte scorse un uomo in ombra non comprese dapprima che cosa colui stesse a far lì silenziosamente gli vide posare come un involto sulla cimasa a piede il fanale in volto no era il cappello e ora possibile ora scavalcava il parapetto possibile istintivamente bronner si trasse indietro col busto protendendo le mani e strizzando gli occhi si restrinse tutto in sé od il tonfo terribile nel fiume un suicidio così riaprì gli occhi riaffondo allo sguardo nel buio nulla acqua nera non un grido nessuno si guardò attorno silenzio e quiete nessuno aveva veduto nessuno udito e quel uomo intanto affogava e lui non si muoveva annichilito gridare troppo tardi ormai argomitolato nell'ombra tutto tremante lasciò che la sorte atroce di quel uomo si compisse pur sentendosi schiacciare dalla complicità del suo silenzio con la notte e domandandosi di tratto in tratto sarà finito sarà finito come se con gli occhi chiusi vedesse quell'infelice di battersi nella lotta disperata col fiume riaprendo gli occhi risollevandosi dopo quel momento d'orribile angoscia la quieta profonda della città dormente vegliata dai fanali gli parve un sogno ma come guizzavano ora quei riflessi dei lumi sull'acqua nera rivolse paurosamente lo sguardo al parapetto del ponte vide il cappello lasciato lì da quelli ignoto il fanale lo illuminava sinistramente fu scosso da un lungo brivido alle reni e col sangue che gli frizzava ancora per le vene in preda a un tremito convulso di tutti i muscoli come se quel cappello là potesse accusarlo scese e cercando l'ombra si avviò rapidamente verso casa diego che fai nulla mamma che ho no mi pareva è tardi non voglio che tu mi aspetti lo sai te l'ho detto tante volte lasciameli incasare quando mi fa comodo sì sì ma vedi stavo a cucire vuoi che ti accenda il lumino da notte me lo domandi ogni sera la vecchia madre come sferzata da questa risposta alla domanda superflua corse curva trascinando un po la gamba ad accendergli in camera il lumino da notte e a preparargli il letto egli la seguì con gli occhi quasi con rancore ma come la scomparve dietro l'uscio trasse un sospiro di pietà per lei subito però il fastidio lo riprese e rimase lì ad aspettare senza sapere perché né che cosa in quella tetra saletta d'ingresso che aveva il soffitto basso basso di tela fuliginosa qua e là strappata e con lo strambello pendente in cui le mosche si erano raccolte e dormivano a grappoli vecchi arredi decaduti mescolati con ruzzi mobili oggetti nuovi di sartoria stipavano quella saletta una macchina da cucire due impettiti manichini di vimini una tavola liscia massiccia per tagliarvi le stoffe con un grosso paio di forbici il gesso il metro e alcuni smorfiosi giornali di moda ma ora il blonner percepiva appena tutto questo sarà portato con sé come uno scenario lo spettacolo di quel cielo corso da quelle nuvolette basse e lievi e del fiume con quei riflessi dei fanali lo spettacolo di quelle alte case nell'ombra la di rimpetto stagliate nel chiarore della città e di quel ponte con quel cappello e l'impressione spaventosa come di un sogno dell'impassibilità di tutte quelle cose che erano con lui là presenti più presenti di lui perché lui anzi nascosto nell'ombra degli alberi era veramente come se non ci fosse ma il suo orrore lo sconvolgimento adesso era un appunto per questo per essere egli rimasto lì in quell'attimo come quelle cose presente e assente notte silenzio argine alberi lumi senza gridare aiuto come se non ci fosse e sentirsi ora qua stordito stralunato come se quello che aveva veduto e sentito lo avesse sognato a un tratto vide venire a posarsi con un balzo agile e netto là sulla tavola massizza il grosso gatto bigio di casa due occhi verdi immobili e vani ebbe un momentaneo terrore in quegli occhi e aggrottò le ciglia urtato pochi giorni addietro quel gatto era riuscito a far cadere dal muro di quella saletta una gabbia col cardellino di cui sua madre aveva cura amorosa con industriosa e paziente ferocia cacciando le grinfie fra le gretole l'aveva tratto fuori e se l'era mangiato la madre non se ne sapeva ancora dar pace anche lui pensava tuttora allo scempio di quel cardellino ma il gatto eccolo là del tutto ignaro del male che aveva fatto se glielo avesse cacciato via da quella tavola sgarbatamente non avrebbe mica capito il perché ed ecco già due prove contro di lui quella sera due altre prove e questa seconda gli balzava innanzi all'improvviso con quel gatto come all'improvviso gli era venuta l'altra con quel suicidio dal ponte una prova che egli non poteva essere come quel gatto là che compiuto uno scempio un momento dopo non ci pensava più l'altra prova che gli uomini alla presenza di un fatto non potevano restare impassibili come le cose per quanto come lui si sforzassero non solo a non parteciparvi ma anche a tenersene quasi assenti la dannazione del ricordo in sé e non poter sperare che gli altri dimenticassero ecco queste due prove una dannazione e una disperazione che modo nuovo di guardare avevano acquistato da un pezzo in qua i suoi occhi guardava sua madre ritornata aurora dall'aver riapparecchiato il letto di là e acceso il lumino da notte e la vedeva non più come sua madre ma come una povera vecchia qualunque qualessa era per sé con quel grosso porro accanto alla pinna destra del naso un po schiacciato le guance esangui e flaccide striate da venicciuole violette e quegli occhi stanchi che subito sotto lo sguardo di lui così stranamente spietato e si abbassavano ecco dietro gli occhiali quasi per vergogna di che ah egli lo sapeva bene di che rise ad un brutto riso disse buonanotte mamma e andò a chiudersi in camera la vecchia madre piano piano per non farsi sentire si rimise a sedere nella saletta e a cucire a pensare dio perché così pallido e stravolto quella notte bere non beveva o almeno dal fiato non si sentiva ma se fosse ricaduto in mano dei cattivi compagni che lo avevano rovinato o forse anche di peggiori questa era la paura sua più grave tendeva di tanto in tanto all'orecchio per sentire che cosa egli facesse di là se si fosse coricato se già dormisse e intanto ripuliva gli occhiali che a ogni sospiro le si appannavano lei prima d'andare a letto voleva finire quel lavoro la pensioncina che il marito le aveva lasciato non bastava più ora che diego aveva perduto l'impiego e poi accarezzava un sogno che pur sarebbe stato la sua morte mettere tanto da parte lavorando e risparmiando da mandare il figlio lontano in america perché qua lo capiva il suo diego ora non avrebbe trovato più da collocarsi nel tristozio che da sette mesi lo divorava si sarebbe perduto per sempre in america in america là il suo figliolo era tanto bravo sapeva tante cose scriveva prima anche nei giornali in america là magari ne sarebbe morta ma il suo figliolo avrebbe ripreso la vita avrebbe dimenticato cancellato il suo fallo di gioventù di cui erano stati cagione i cattivi compagni quel russo o lacco che fosse pazzo crapulone capitato a roma per la sciagura di tante oneste famiglie giovinastri si sa invitati a casa da questo forestiere riccone scostumato avevano fatto pazzie vino donnacce subriacavano ubriaco quello voleva giocare a carte e perdeva se l'era procacciata da sé con le sue mani la rovina che c'entrava poi l'accusa tradimento dei suoi compagni di crapula quel processo scandaloso che aveva sollevato tanto rumore infamato tanti giovanotti scappati sì ma di famiglie onorate e per bene mi parve di sentire un singhiozzo di là e chiamò diego silenzio rimase un pezzo con l'orecchio teso e gli occhi intenti sì era sveglio ancora chi faceva si alzò e in punta di piedi si accostò all'uscio a origliare poi si chinò per guardare attraverso il buco della serratura leggeva ecco quei maledetti giornali ancora mi reso conto del processo come mai come mai si era dimenticata di distruggerli quei giornali comperati nei tremendi giorni del processo e perché quella notte a quell'ora appena l'incasato li aveva ripresi e tornava a leggerli diego chiamò di nuovo piano e schiuse timidamente l'uscio e gli si voltò di scatto come per paura chi vuoi ancora in piedi e tu fece la madre vedi mi fai rimpiangere ancora la mia stolidaggine no mi diverto rispose egli stirando le braccia si alzò si mise a passeggiare per la stanza strazzali buttali via te ne prego supplicò la madre a mani giunte perché vuoi straziarti ancora non ci pensare più egli si fermò in mezzo alla stanza sorrise e disse brava come se non pensandoci più io per questo poi non dovessero più pensarsi gli altri dovremmo metterci a fare i distratti tutti quanti per lasciarmi vivere distratto io distratti gli altri che è stato niente sono stato tre anni in pilleggiatura parliamo d'altro ma non vedi non vedi come mi guardi anche tu io esclamò la madre come ti guardo come mi guardano tutti gli altri no diego ti giuro guardavo ti guardavo perché dovresti passare dal sarto ecco diego bronner si guardò addosso il vestito e tornò a sorridere già è vecchio per questo tutti mi guardano eppure me lo spazzaro bene prima d'uscire è giusto non so mi sembra che potrei passare per un signore qualunque per uno che possa ancora indifferentemente partecipare alla vita il guaio è là è là aggiunse accennando i giornali sulla scrivania abbiamo offerto un tale spettacolo che via sarebbe troppa modestia presumere che la gente se ne sia potuta dimenticare spettacolo d'anime ignude gracili e sudicette vergognose di mostrarsi in pubblico come i tisici alla leva e cercavamo tutti di coprirci le vergogne con un lembo della toga dell'avvocato difensore e che risate il pubblico vuoi che la gente per esempio si dimentichi che il russo noi quel cagliostro lo chiamavamo lukullof e che lo paravamo da antico romano con gli occhiali d'oro a stanghetta sul naso rincagnato quando lo han veduto là con quel faccione rosso brozzoloso e han saputo come noi lo trattavamo che gli strappavamo i coturni dai piedi e lo picchiavamo sodo sul cranio pelato e che lui sotto quei picchi sodi rideva schignava beato diego diego per carità scongiorò la madre ubriaco ubriacavamo noi tu no anch'io va là con gli altri era uno spasso e allora venivano le carte da gioco giocando con un ubriaco capirai facilissimo barare per carità diego così scherzando oh questo te lo posso giurare la risero tutti i giudici presidente fin anche i carabinieri ma è la verità noi rubavamo senza saperlo o meglio sapendolo e non credendo di scherzare non ci pareva una truffa erano i denari di un pazzo schifoso che ne faceva getto così e del resto neppure un centesimo rimaneva poi nelle nostre tasche ne facevamo getto anche noi come lui con lui pazzescamente si interruppe si accostò allo scaffale dei libri ne trasse uno guarda questo solo rimorso con quei denari comprai una mattina da un rivendugliolo questo libro qua e lo buttò sulla scrivania era la corona d'olivo selvaggio del ruskin nella traduzione francese non l'ho aperto nemmeno difissò lo sguardo agglottando le ciglia come mai in quei giorni era potuto venire in mente di comprare quel libro sarà proposto di non leggere più di non più scrivere un rigo e andava lì in quella casa con quei compagni per abbruttirsi per uccidere in sé per affogare nel bagordo un sogno il suo sogno giovanile poiché le tristi necessità della vita impedivano d'abbandonarsi a esso come l'avrebbe voluto la madre è stata un pezzo a guardare anche lei quel libro misterioso poi gli chiese dolcemente perché non lavori perché non scrivi più come facevi prima e gli lanciò uno sguardo odioso contraendo tutto il volto quasi per ribrezzo la madre insistette umile se ti chiudesse un po in te perché disperi credi tutto finito hai 26 anni chissà quante occasioni ti offrirà la vita per riscattarti ah sì una proprio questa sera sghignò egli ma sono rimasto lì come di sacco ho visto un uomo buttarsi nel fiume tu io gli ho veduto posare il cappello sul parapetto del ponte poi l'ho visto scavalcare quietamente poi ho udito il tonfo nel fiume e non ho gridato non mi son mosso ero nell'ombra degli alberi e ci son rimasto spiando se nessuno avesse veduto e l'ho lasciato affogare sì ma poi ho scorto lì sul parapetto del ponte sotto il fanale il cappello e sono scappato via impaurito per questo mormorò la madre che cosa io non so nuotare buttarmi tentare la scaletta d'accesso al fiume era lì a due passi l'ho guardata sai e ho finto di non vederla avrei potuto ma già era inutile troppo tardi sparito non c'era nessuno nessuno io solo e che potevi fare tu solo figlio mio è bastato lo spavento che ti sei preso e questa agitazione vedi tremi ancora va va a letto va a letto è molto tardi non ci pensare la vecchia madre gli prese una mano e gliela carezzò egli le fece inno di sì col capo e le sorrise buonanotte mamma dormi tranquillo eh gli raccomandò la madre commossa dalla carezza a quella mano che gli sarà lasciata fare e asciugandosi gli occhi per non guastarsi questa tenerezza angosciosa se ne uscì dopo circa un'ora diego bronner era di nuovo seduto sull'argine del fiume al posto di prima con le gambe penzoloni continuava per il cielo la fuga delle nuvolette lievi basse cinere il cappello di quell'ignoto sul parapetto del ponte non c'era più forse erano passate di là le guardie notturne e se l'erano preso all'improvviso si girò verso il viale ritraendo le gambe scese dalla spalletta dell'argine si regolà sul ponte si tolse il cappello e lo posò allo stesso posto di quell'altro e due disse ma come si facesse per gioco per un dispetto alle guardie notturne che avevano tolto di là il primo andò dall'altra parte del fanale per vedere l'effetto del suo cappello solo là sulla cimasa illuminato come quell'altro e rimase un pezzo chinato sul parapetto col collo proteso a contemplarlo come se lui non ci fosse più a un tratto rise orribilmente si vide là appostato come un gatto dietro il fanale e il topo era il suo cappello via via pagliacciate scavoi col parapetto si sentì drizzare i capelli sul capo sentì il tremito delle mani che si tenevano rigidamente aggrappate le schiuse si protese nel vuoto